Eros Pellegrini, Pisa a 7 punti in classifica, Vetta in coabitazione con altre due squadre, è un inizio dei migliori? Sì, abbiamo avuto una crescita da parte di tutto il gruppo in queste tre settimane, con due vittorie esterne ci siamo portati in vetta alla classifica, adesso però c'è la nocerina che non è da sottovalutare, anzi non è sicuramente l'organico dell'anno scorso ma è una squadra che da quanto so lotta fino alla fine, è piena di giovani, con tanta voglia, quindi dovrà essere una partita migliore di tutte quelle affrontate fino adesso. Manca infatti ancora la vittoria all'arena e l'obiettivo di tutto il gruppo? Sì, manca la vittoria in casa perché si sa, in casa si costruiscono penso l'80% di tutti i campionati in tutte le categorie, però noi ci teniamo anche a far bella figura in casa perché il nostro pubblico se lo merita.